Ciao a tutti, ho cambiato ferine per questa ricetta, farò la ciambella di pane o torciglione perché poi la farò a mo' di torciglione, sto usando la farina di tipo 1 e la semola, la petra e la semola di altamura, vado a mettere in autolisi le farine, quindi metto più della metà della dose di acqua, poi l'altra la aggiungo quando giro, quando andrò a girare con la planetaria così mi regolo. Il torciglione l'abbiamo già fatto con il gruppo Nuvola, un amore di pasta madre, quindi lo trovate già sul canale, però qui ho dimezzato i tempi e farò questo pane in giornata. L'autolisi come sapete aiuta moltissimo la lievitazione, quindi si attivano già gli enzimi e i lieviti, anche se con questo caldo nemmeno servirebbe, però questa volta l'ho fatta, anche perché mi fate delle domande, quindi ogni tanto ripeto i passaggi. In questo caso useremo, proprio appunto per le temperature alte, meno lievito del solido, questi erano 90 grammi, ma io ne userò di meno, quindi siamo intorno ai 60 grammi di licoli. Di pasta madre farete la stessa cosa, magari invece di 100 ne usate 80. Faccio girare, mentre giro con la planetaria, aggiungo l'acqua, l'acqua che è rimasta, aggiungo il sale e faccio girare in circa 10 minuti. Verso l'impasto in una ciotola che ho appena unto di olio e faccio due giri di pieghe, pieghe in ciotola, in questo modo. Vedete l'impasto è bello elastico, è già incordato, però faccio questi due giri, tra un intervallo e l'altro naturalmente copro, faccio passare 30 minuti. Fatto questo, copro e lascio fino al raddoppio. Ci sono volute alle circa 4 ore a temperatura ambiente, anche se fa caldo, però dentro casa ho comunque il condizionatore, la temperatura non supera sicuramente i 27 gradi. Quindi a questo punto, verso sul piano di lavoro, dove ho messo un po' di farina, lo giro così, quindi la differenza tra la ricetta che abbiamo fatto sul gruppo del torciglione è che non ho fatto il passaggio in frigo di 12 ore, avrei dovuto mettere l'impasto in frigo e aspettare 12 ore, invece lo sto facendo in giornata, questo per esigenze, per una mia esigenza, diciamo, e per cambiare anche un pochino, provare a sperimentare anche un altro tipo di ricetta. Bene, allargo l'impasto, è molto bello, vedete, ci sono anche delle bolle. Scusatemi lo smalto, ve l'ho già detto l'altra volta, ma nei mesi estivi ho questa esigenza di mettere a posto le unghie. faccio un giro di pieghe, pieghe a tre, ecco qua, quindi piego, cerco di far aderire bene, così non mi rimangono i vuoti dentro all'impasto. Ok, ora lo arrotondo, poi lo copro, lo copro con una ciotola e lo lascio, lo lascio, diciamo, da 30-40 minuti, ma anche un'ora, quindi valutiamo anche con l'occhio quando lo vediamo che comincia ad adagiarsi, è pronto. E a quel punto possiamo passare alla formatura, senza fare un altro giro di pieghe, perché l'ho visto bello, ma se serve voi fatelo, io lo vedo bello pronto, con caldo, diciamo che è lievitato più velocemente, che non va bene, perché è sempre preferibile fare un passaggio in frigo, però io ecco mi serviva questo pane in giornata, quindi sono arrivata dalla mattina alla sera ad infornare. Adesso vi farò vedere, faccio la formatura di questa ciambella e poi la terrò ancora altre due ore a lievitare. Per tornare alle dosi dell'icoli, della pasta madre, come vi sarete sicuramente accorti, io non sono così tecnica, perché leggo delle cose allucinanti, diciamo, per me sono allucinanti, cioè le tabelle, per trasformare, che so, 100 grammi di pasta madre, l'icoli, andiamo a fare dei conteggi, dove esce fuori 66,6, ma se noi mettiamo 60 grammi o 70 grammi di l'icoli, non è che ci cambia la vita, quindi io sinceramente non mi vado a fare questi calcoli, delle volte li faccio per voi, quando mi chiedete la differenza, quindi tra l'icoli e pasta madre, per essere precisa li vado a fare con le tabelle che abbiamo su internet. però pensando alle nostre nonne che facevano il pane senza pesare nulla, senza pesare il lievito, bisogna comunque imparare a fare, a regolarsi anche ad occhio. Ok, detto questo, ho arrotolato, come avete visto, ho allungato, ho arrotolato il filone e poi arrotolato a mo' di torciglione, ora lo attacco, lo allargo un pochino, ho preparato già la carta forno, metto un po' di semola e ci adagio la ciambella, o se volete potete farla anche senza torcigliarla, una ciambella normale. Ok, allargo un pochino perché adesso al centro ci vado a mettere qualcosa in modo che il lievitazione rimane, non si chiuda tanto, quindi rimane lo spazio al centro. attacco bene, anche questa la derò ancora a temperatura ambiente, quindi ho fatto tutto a temperatura ambiente, però calcolate che ho il condizionatore acceso, perché fuori fa 35 gradi, sarebbe un problema quello. Metto un po' di semola, poi ecco i miei video, se li vedete a gennaio, quindi regolatevi, pensate sempre alla temperatura, guardate sempre la data del video, perché se lo fate a gennaio cambiano naturalmente i tempi. Ok, copro tutto e aspetto che lieviti. Sono passate all'incirca due ore, si è gonfiato abbastanza, io direi che vado ad infornare, perché non posso aspettare di più. tolgo la ciotolina dal centro, l'avevo oliata all'esterno proprio per toglierla più facilmente, e in forno. ed eccolo qua, dopo l'incirca 50 minuti calcolando anche lo spiffero, o lo spiffero naturalmente significa lo sportello un pochino socchiuso con una paletta o con qualcosa. l'ho lasciato tutta la notte perché ho finito di sera quindi non l'ho potuto tagliare e la mattina eccomi qua. calcolate che c'è semola e farina di tipo 1 quindi non ci saranno magari quelli alveoli ma insomma insomma diciamo che può andare eccolo qua va bene quindi senza la farina zero che avrebbe permesso di creare più alveoli e con poco lievito io direi che va benissimo. Bene amici vi ringrazio della visione vi invito se non l'avete fatto a iscrivervi al canale a condividere i miei video e da lasciare un like ciao ci vediamo al prossimo video ciao ciao